Interessante incontro con Rita Borsellino a Gioio Samarea il 4 novembre 2011, promotore dell'incontro Teodoro Lamonica di Un'altra Storia e si è parlato di comunità europea, mondo agricolo siciliano e sterpaie negli antichi locali del Circolo Roma di Gioio Samarea. Qui Rita Borsellino ha parlato in un incontro pubblico sulla normativa europea e sulle diversi possibilità di creare con nuovi progetti input importanti per dar fiato all'economia rurale del mondo agricolo isolano, oggi afflitto da mille problemi, non ultimo quello legato al divieto di bruciare i residui vegetali agricoli. L'incontro a Gioio Samarea ha offerto diverse soluzioni che la stessa Borsellino ha già elaborato in un progetto dal taglio europeo. L'onorevole Borsellino oggi a Gioio Samarea, oggi un argomento importante in Sicilia, soprattutto nella provincia di Messina, qualche tempo fa è partita una petizione popolare per mano e ad opera dell'avvocato Vincenzo Amato che ha raccolto un notevole successo. La petizione parlava proprio di questa legge che molti hanno disapprovato, ne vogliamo parlare? Magari citerà lei la legge? Si tratta del recepimento di una direttiva europea, la direttiva europea è una direttiva europea e quindi non si può mettere in discussione, quello è e va bene. Peraltro le direttive sono sempre piuttosto ampie come campo di applicazione, poi c'è il recepimento da parte dello Stato italiano prima e da parte della regione siciliana dopo. E lì sono comparse tutta una serie di restrizioni e di obblighi da ottemperare, io capisco che su questa gli agricoltori, specialmente i piccoli agricoltori, si siano sentiti aggrediti, vorrei dire, in una realtà che un po' deriva da una cultura ormai centenaria e anche più, che sicuramente bisogna via via cercare di modificare e modificare in base a quelle che è il cambiamento anche delle abitudini, degli stili e poi perché vanno sempre verso un miglioramento per il territorio. Però bisogna fornire gli strumenti agli agricoltori perché non si sentono soltanto aggrediti e costretti a mettere in atto delle pratiche per cui non hanno negli strumenti né spesso la cultura per poterle fare. Quindi qui si tratta davvero di affrontare il recepimento di questa direttiva e provare a capire se sia stata fatta nella maniera corretta o se ci sono degli spazi per poter agire in maniera diversa. Mentre si educano gli agricoltori e si prova a fornire loro gli strumenti per trasformare, come oggi si fa ed è importante che si faccia, anche i rifiuti agricoli in energia e che quindi diventino positivi anziché essere soltanto negativi. Infatti lei ha sposato questa idea, appunto come dicevo partita dall'avvocato Amato che ha dato... ...quanto successo ha ottenuto vuol dire che è una ragione molto sentita da parte degli agricoltori, quindi bisogna dargli ascolto. Certo, ma di questo lei ha detto che voleva farne anche, creare un input per poter far sì che magari nel mondo agricolo questo potesse invece essere, diventare fruttuoso. Diventare fonte di economia, perché mentre mi impegno a fare un'interrogazione al Parlamento europeo, per vedere se effettivamente il recepimento che è stato fatto di questa direttiva è corretto, se ci sono delle cose che possono essere modificate proprio a livello di recepimento, bisogna però guardare ormai come si guarda e si deve guardare al rifiuto come qualcosa che può e deve creare economia addirittura, a creare ricchezza, perché nella trasformazione dei rifiuti si può trovare fonte di ricchezza e di economia in maniera che anche i giovani, anziché allontanarsi dalle campagne, la vedano come una prospettiva di futuro e di sviluppo. Onorevole, scendendo in campo a Palermo, che cosa si aspetta dai palermitani? Ma guardi, intanto che non mi chiedano di scendere in campo perché io non vado a fare una partita di calcio, chiedo di potermi mettere al servizio della mia città, di questa città così disastrata e così abbandonata e spero di avere soprattutto in loro compagni di viaggio che mi permettano e ci permettano di ridare dignità a questa città. La petizione popolare proposta dall'Avvocato Vincenzo Amato, una petizione che ha avuto un successo forse inaspettato, ha dato vita anche ad una forma di sposalizio con l'Onorevole, con l'Europarlamentare Borsellino. Sì, mi fa molto piacere che l'Onorevole Borsellino abbia avuto la sensibilità di occuparsi di questa problematica perché in effetti, come ho anche detto durante l'incontro, sono state raccolte circa 20.000 firme, forse anche di più, quindi obiettivamente è un problema molto sentito dalla popolazione, un problema che interessa la stragrande maggioranza dei nostri agricoltori e anche non agricoltori, quindi benvenga questa iniziativa. Da resto era quello che chiedevamo, la petizione era diretta ai parlamentari, ai politici, agli amministratori che in qualche modo si attivasso per risolvere il problema. Quindi il percorso indicato alla Borsellino, secondo me, è valido, quindi attraverso questa interrogazione che lei ha proposto di fare al Commissario europeo dell'Agricoltura, per chiarire se effettivamente questa direttiva è stata recepita, c'è lo spirito con la quale è stata recepita e conforme alla direttiva e soprattutto se l'interpretazione che ha dato alla Regione è conforme a quello che aveva stabilito l'Europa. Quindi già è un elemento importante per chiarire effettivamente la portata e le conseguenze pratiche che questa direttiva dovrebbe avere sui nostri agricoltori. Avvocato Amato, una cosa che mi hanno chiesto, mi è arrivata questa voce, come si procederà adesso, che cosa farà con queste firme che sono in numero cospicuo? Dunque, la raccolta procederà fino a tutto il metà novembre. Poi a fine novembre abbiamo pensato di organizzare un incontro pubblico con tutti i destinatari, quindi i parlamentari regionali, nazionali, anche quelli europei, i sindaci, i presidenti della provincia, eccetera, ai quali consegnarle materialmente e quindi in quella sede, anche con l'ausilio di persone qualificate, con persone che hanno studiato il problema, anche compreso la stessa Borsellino, se nel frattempo dovesse arrivare ad una conclusione di quello che ha detto, quindi indurare una soluzione e quindi stabilire un percorso comune. E consente anche ai sindaci che in questi giorni sono assunti la responsabilità, e credo che lo stia facendo anche il sindaco di Gioiosa, di consentire comunque agli agricoltori di continuare la pratica che seguivano prima, c'è di dare una soluzione e quindi di dare un senso compiuto a questa inizia. E soprattutto una specie di diffida, passatemi il termine, per dire ai nostri rappresentanti politici che se su una popolazione di 100.000 abitanti, più o meno questo è il bacino in cui si è avviata la protezione, 20-30.000 persone firmano, evidentemente un problema c'è, quindi di non sottovalutare, di attivarsi per risolvere il problema che è stato posto all'attenzione con la petizione. La sede di questo incontro, presumo, sarà Gioiosa Marea? Diciamo che è nata da qui, ecco, per cui è il minimo questo, quantomeno che ci riconoscano la paternità di questa, non per voler mettere il cappello solo, ma comunque è stata sollevata una questione che sicuramente ha la sua importanza e quindi che a Gioiosa Marea sicuramente ha dato la possibilità di poter esprimere e essere protagonista su una questione importante. Teodoro Lamonica è vicino all'onorevole Borsellino, infatti è stato lui che ha proposto questo incontro con una motivazione molto importante. Sì, io ho segnalato subito appena è venuto fuori questo problema, a Rita perché ritenevo giusto che il Parlamento europeo se ne occupasse di questa materia, perché quando si fanno le leggi poi bisogna studiare anche le rigadute. Io credo che sia un accettabile una legge di questo tipo e noi vogliamo capire, con l'interrogazione propone Rita, se il ricevimento italiano è stato fatto correttamente e quello siciliano rispetto alla direttiva che è stata fatta in Europa. Quindi avremo da qui anche una risposta. Sicuramente non si possono lasciare le singole contadini, le singole persone, perché qui abbiamo realtà piccolissime nel nostro territorio, che magari ognuno lavora in proprio, pulisce il terreno e poi resta con l'erba tagliata nel campo. Questo non produce sicuramente meno incendi, probabilmente potrebbe più incendi, perché l'erba secca è tagliata, che resta sul campo produce ancora maggiore possibilità di incendi. Poi certo, noi lavoriamo da anni con il gruppo di Rita Borsellino, l'associazione Altra Storia, con i cantieri dove studi e approfondisci i problemi, faremo un'iniziativa da qui a qualche mese, dove spiegheremo anche come molti rifiuti, comprese quelle che noi paghiamo oggi salitamente con le bollette, che aumentano sempre di più e non diminuiscono, come potrebbe diventare una risorsa, che è la cosa su cui dobbiamo scommettere, come hanno scommetto altri stati europei, dove addirittura ci sono paesi che non pagano più neanche la bolletta. Ma in Italia, andiamo lontano, a Brescia c'è una struttura costruita da anni, che dà l'acqua calda ai cittadini a molte qualità di Brescia, quindi diciamo che si possono produrre ricchezza da queste cose, e credo che questo deve essere il modo da affrontarlo, perché penso che la politica, e questo è il problema vero, la politica torni a fare e ad affrontare i problemi della gente, non torni a pensare alle cose piccole, o a pensare a piccoli gruppi, bisogna pensare alla quantità dei cittadini e alla popolazione al suo insieme.